Musica Ok giornali, buongiorno, ben ritrovati 7.30 in diretta, in replica fino alle 8.30 ogni 15 minuti poi 9.10 e 13.30 Buongiorno a tutti Allora cominciamo con il santo del giorno oggi è San Giorgio il sole sorto alle 6.12 tramonterà alle 20.01 il tempo si annuvola un po' ma non pioverà oggi mentre fa caldo, guardate, 16 gradi 16 gradi già alle 7.30 di questa mattina con una umidità del 37% per oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento e venti di brezza tesa mentre per la giornata di domani rispetto a ieri è un po' cambiata la situazione, pioverà nell'entroterra non invece sulla costa come era previsto nella giornata di ieri sono un po' cambiate le cose dal punto di vista meteorologico avremo possibilità di precipitazione di qualche rovescio nel pomeriggio di domani più probabile nei settori settentrionali della regione le temperature in lieve diminuzioni venti di brezza tesa per la giornata di sabato invece avremo una giornata sicuramente di sole con temperature in lieve diminuzione ma solo nei valori minimi mentre saranno in aumento in quelli massimi quindi sarà una giornata calda e dunque già preestiva questa è la situazione per la giornata di sabato mentre domenica per la giornata di domenica e la prima parte della prossima settimana sembrano essere caratterizzati da flussi a componenti occidentali con conseguente variabilità del tempo sebbene senza particolari fenomeni l'ultima parte della settimana dovrebbe invece vedere un ritorno di una situazione anticiclonica e dunque miglioramento del tempo staremo a vedere allora il Carlino questa mattina si occupa della tragedia di Ostia di quel pesarese che è stato ritrovato morto insieme alla sua compagna si parla di Massimo Ballarini di 47 anni di Pesaro e della sua compagna Daniela Bosco di 41 anni infermiera professionale di Ostia forse un mix di farmaci e droga oppure eroina tagliata male queste le cause probabilmente del decesso un mix che li ha fulminati uno dietro l'altro a distanza di pochi minuti emerge questo infatti in attesa di risposte complete da parte dell'autopsia emerge questo dietro la morte di Massimo Ballarini e di Daniela Bosco ricordo degli amici grande dolore Maccio ci ha lasciato il suo sorriso i contatti fino a sabato Massimo era poco conosciuto ad Ostia dove era arrivato soltanto da pochi mesi non aveva mai dato alcun problema ha spiegato il tenente dei carabinieri di Ostia Andrea Leac che per noi era pressoché sconosciuto e questa tragedia arriva a scrivere il giornale questa mattina proprio mentre la coppia stava tentando di trovare un futuro nuovo e soprattutto diverso ma il Carlino come gli altri quotidiani si occupano questa mattina anche della tragedia di Livia la maestra uccisa morta dopo qualche giorno in ospedale dopo un incidente stradale oggi l'addio in Duomo è la nostra eroina del quotidiano decise di partorire pensate 20 anni fa nonostante il trapianto di rene subito la ricorda anche padre Marzio Calletti che dice di lei è stata una grande persona che sapeva dare il meglio di sé nella quotidianità e come dicevo appunto poco fa era salita Livia all'onore della cronaca già 20 anni fa quando scelse di portare avanti la gravidanza nonostante i rischi a cui sarebbe si sarebbe esposta avendo subito un trapianto di rene i funerali funerali oggi oggi alle 15.30 in Duomo però perché nonostante il grande legame dei coniugi Livia e Massimo al gruppo ecclesiale della Fraternità di San Francesco vicino alla comunità dei Frati Capuccini la scelta è ricaduta necessariamente sulla cattedrale sul Duomo di Pesaro ben più capiente pronta ad accogliere le diverse centinaia di persone che vorranno darle appunto l'ultimo saluto e pensate che bello oggi c'è anche la figlia 21enne la primogenita che questa mattina andrà a scuola per incontrare gli alunni di questa di questa donna a Fano invece a Fano si parla di politica con la caccia al candidato Forza Italia prova con Mauro Falcioni ma deve ancora convincerlo mentre l'ex coordinatrice Lucia Salucci dice non ha dubbi voterò Mirko Carloni mentre c'è spazio anche per una riflessione di Carnaroli tutta colpa di Ucchielli Carnaroli in vista delle regionali punta in dito contro il modello Marche nato ai tempi di Palmiro Ucchielli sotto invece Danna Giancarlo Danna per una volta d'accordo con il Partito Democratico dice spacca si deve dimettere pur con motivazioni completamente diverse appoggio la richiesta e Ceriscioli è più vicino sempre dalle pagine Fanisi del resto del Carlino impianti sportivi meno spese più defibrillatori la nuova strategia dell'assessore Caterina Delbianco che dice in un campetto di falcineto e non lo frequenta nessuno potrei anche decidere di togliere la rete di farne uno spazio pubblico Fano senza luce Enel si scusa i lavori sono stati inderogabili erano inderogabili in riferimento all'articolo pubblicato ieri dal quotidiano è nella distribuzione precisa che è stata messa interamente fuori servizio una cabina di trasformazione che alimenta circa 300 utenti del centro storico di Fano e quindi Vianolfi e le zone limitrofe e dunque era necessario un intervento urgente di manutenzione straordinaria lingue orientali e comunicazione pubblicitaria a Fano Ateneo la proposta di Noi Giovani perché non ampliare la sezione di staccata di Fano dell'Università di Urbino lo propone a nome di Noi Giovani gruppo politico che appoggia la giunta di Massimo Seri il segretario Edoardo Carboni licenziata dal pronto soccorso perché timbrava fuori orario siamo a Pesaro sotto processo per truffa una nota dottoressa pesarese ma che è stata riassunta nel frattempo l'imputata è tornata al lavoro nell'ospedale di Urbino e poi bombe in mare pressing sul sindaco lettera del comitato a Matteo Ricci ancora dai quotidiani adesso sul Corriere Adriatico la cronaca in apertura casa in fiamme evacuata una palazzina una palazzina che si trova in via Zavattini nella zona della Celletta dove un'intera palazzina è stata evacuata per l'incendio che ha distrutto uno degli appartamenti di una recente costruzione a sette piani l'incendio è scoppiato intorno alle 17 inagibile l'abitazione dove è avvenuto l'incendio gli altri inquilini sono tutti rientrati invece nei loro appartamenti la pagina di Fano la rivolta di Forza Italia una faida fanese Lucia Salucci replica ai dissidenti un anno fa nessuno disse niente quando in tanti fumo cacciati si approfondisce la spaccatura causata dalla candidatura a sindaco nel 2014 di Mirko Carlone intanto ribadiscono l'appoggio a spacca è una scelta suicida a maggio i lavori per l'illuminazione della pista ciclabile tra Fano e Pesaro l'ultimo tratto che è rimasto al buio e sarà sicura pure di notte mentre la proposta dei 5 Stelle trova spazio a fondo pagina sulla pagina di Fano del Corriere un ufficio per i turisti nello scambio bus-treno operazione anomala da liquidare sulla Rincicotti Orciani e l'input del comitato di controllo ecco tutte le perdite poi dalla cronaca di Senigallia ragazzina stuprata in un locale è stata fatta obbligare alla festa poi gli abusi in bagno sotto accusa un giovane che adesso rischia il processo stiamo parlando di un fatto che risale ai primi di agosto del 2014 quando una minorenne fu stuprata nel bagno di un locale dopo essersi ubriacata per mano di un 23enne senigallese che l'avrebbe fatta bere per abusare poi di lei a fondo pagina invece picchia l'ex moglie in stazione davanti ai figli la vicenda finisce in tribunale condannato di nuovo per maltrattamenti dovrà pagare una multa di 800 euro e adesso apriamo il messaggero la politica tra partito democratico e spacca ora è rissa il centro-sinistra presenta la sfiducia in aula e dice la sua candidatura è un affronto agli elettori il governatore risponde siete voi a tradire resisterò come Don Milani addirittura oggi via gli assessori Dem dalla giunta mentre a 100 pagina la foto con lo striscione appeso davanti alla scuola Don Lorenzo Milani appesero l'addio in cattedrale per Livia i bimbi piangono la maestra ciao maestra Livia questo è lo striscione poi nuovi profughi in arrivo il prefetto convoca i sindaci vertice urgente ieri mattina i primi cittadini i sindaci chiedono garanzie emettono paletti oltre ad esprimere perplessità ieri mattina c'è stato questo vertice urgente convocato dal prefetto Luigi Pizzi con i sindaci e le forze dell'ordine per parlare di nuovi arrivi di migranti e del piano d'accoglienza migranti che chi vive a Fano e segue la cronaca fanese sicuramente ricorderà insomma hanno soggiornato nella città fanese nella città della fortuna non senza polemiche ebbene ne arriveranno degli altri stiamo parlando di 300 probabilmente 300 persone forse 450 che è la capienza massima per il territorio e per la provincia di Pese d'Urbino poi il turismo si risveglia a primavera grazie agli eventi sportivi entriamo nelle pagine interne ancora politica spacca Berlusconi il tweet della Sant'Anché Ceroni caso montato pensiamo a vincere Silvio Berlusconi verrà a sostenerci liste ad Ancona c'è anche Berardinelli Silvetti rinuncia e ancora dalla pagina del messaggero hotel da riqualificare al via un accordo per i finanziamenti da Pesaro appello all'appello del sindaco perché le strutture siano all'altezza risponde dell'associazione albergatori con una convenzione sui danni negati per il maltempo invece un nuovo sopralluogo i bagnini sono in allarme subito la sabbia oppure non si apre si schianta con il SUV contro un palo salvi due turisti che passeggiavano paura ad Urbino per un incidente sotto le mure della città ducale tre in ospedale ma tutti con ferite lievi al volante un ex farmacista settantenne questa è la fotografia dell'auto ribaltata chiudiamo anzi no abbiamo l'altra pagina l'ultima pagina quella di Fano sì allora niente corrente in centro storico disagi e tante proteste i negozianti infuriati per il distacco della luce programmato per i lavori molti contestano la scarsa informazione e la scelta del giorno di mercato addio all'incasso della mattinata poi Salucci nessun fondatore di Forza Italia tra i critici a spacca l'ex dirigente ribadisce l'appoggio al nuovo centrodestra e al governatore e poi mensa di San Paterniano Cecconi nuova presidente Laura Cecconi è il nuovo presidente dell'associazione San Paterniano che si occupa della mensa per i poveri in via Malvezzi pensate mensa che ha preparato 35.000 pasti soltanto nel 2014 l'anno scorso si occupa anche dell'accoglienza notturna oltre 300 persone e dunque la notizia è che appunto questa mensa questa struttura ha una nuova presidente che appunto è Laura Cecconi poi sotto per chiudere Acli a caccia dei turisti sportivi Tomassini il presidente delle Acli dice stiamo cercando di organizzare degli eventi a Fano e poi una mostra fotografica che si è curata dalla CISL che viene inaugurata oggi mezzo secolo di lavoro al femminile ed è tutto grazie per averci seguito la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30 in diretta vi ricordo che le vostre segnalazioni sono per la nostra redazione sempre molto importanti anzi direi fondamentali quindi continuate questo rapporto insieme a noi continuate ad inviarci le vostre segnalazioni attraverso whatsapp sms oppure la nostra casella di poste elettroniche è tutto arrivederci a Grazie a tutti.